Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi vi voglio rivelare, svelare un trucco che io utilizzo, ok, per prendere un po' per i fondelli la mia mente. Perché il nostro cervello, adesso chiudo il computer, passa il... prendere l'ufficio davanti ad una strada dove passa... un genio. Dal 2020... quando l'ho preso questo? Vabbè. Il problema, uno dei più grandi problemi di chi vuole fare business, chi vuole magari nella ruota del criceto, fa un lavoro che non gli piace, è inconsciamente, consciamente, è lì che sta lì e dice io devo guadagnare di più, devo guadagnare di più, guardo i video, compro i corsi, magari vede i miei video, vede i video di altri, compro i video corsi. Non sapete quanta gente in consulenza? Credo tutta. La gente che viene in consulenza da me, tra chi prende la singola consulenza da un'ora, in descrizione trovi la mia mail se mi vuoi contattare. Se non mi conosci è la prima volta che vedo i miei video, io sono Michele Maraglieno e faccio business, dalla fine del 2016 faccio business online, perché comunque vengo dalla musica, ho aperto... Mi è sempre piaciuto il mondo dell'imprenditoria, ho aperto la mia casa discografica, sono partito come cantautore, ho fatto i miei dischi, poi mi è piaciuto l'aspetto imprenditoriale della musica, ho aperto la casa discografica, l'ufficio stampa lavoro nella promozione della musica e poi alla fine del 2016 ho aperto il mio canale YouTube, che all'epoca si chiamava Michele Maraglieno, dove facevo il cantautore, ma con i video iniziavo ad insegnare ai musicisti il mio stesso percorso, le mie competenze, la mia esperienza messa sotto forma di videocorso e la vendevo per tutti quei musicisti che volevano fare il mio stesso percorso. Tu magari sei un musicista, vuoi anche lavorare nella musica, fare il produttore, il discografico oppure lavorare nella promozione, allora in Italia non c'è nessuno, vieni da me per imparare queste cose. Ora il canale si chiama Michele Maraglieno Musica e continuo a lavorare in modo pazzesco, in modo quasi passivo, perché poi negli ultimi anni e mezzo mi sono concentrato su questo. Alla fine mi sono deciso, perché era una cosa che avevo in testa, devo aprire un canale YouTube dove parlo di business, dove parlo di quello che ho imparato, perché per vendere i miei videocorsi e le mie consulenze ho imparato tutta una serie di skill, tra il marketing, il digital marketing, l'online, l'email marketing, che ne so, i video, il video marketing, vendere sui video, ho imparato YouTube come è veramente, da quando ho iniziato a fare i video sono cresciuti praticamente i miei clienti dell'ufficio stampa e poi con i videocorsi ho moltiplicato le mie entrate, perché ho iniziato anche a fare formazione, diciamo, è un bel business perché i videocorsi li registri e quello che vendi è la tua conoscenza, la tua esperienza. Se hai competenze, lo dico sempre, pensaci di fare video e diciamo metterti in gioco, aprendo un canale YouTube e mettendoci la faccia. Quindi, quel canale poi l'ho rinominato Michele Maraglino Musica perché ho aperto a marzo 2022 Michele Maraglino Business e qui condivido tutta la mia esperienza su come guadagnare online, come fare più soldi, come uscire dalla ruota del criceto, come cambiare la propria vita. Quindi iscriviti a questo canale se questi argomenti ti interessano e qui ho rilasciato del materiale gratuito, guardati la playlist corsi completi gratis, puoi uscire dalla ruota del criceto attraverso diversi metodi, puoi lavorare online con un cash cow channel, puoi lavorare online facendo il self-published, quindi scrivendo libri magari con l'intelligenza artificiale o commissionandoli ad altri, puoi guadagnare quelle affiliazioni, puoi venderti come grafico che sfrutta l'intelligenza artificiale, puoi fare i primi soldi su Fiverr, ci sono tutti i corsi nella playlist corsi gratis completi. Poi se vuoi approfondire vieni in consulenza, ti posso seguire da vicino con il tuo business. E in più ho lanciato il mio percorso, visto che sono un grande divoratore di YouTube, cioè lavoro e conosco YouTube benissimo e so utilizzare YouTube per vendermi, insegno anche questo nel mio percorso Marra Cash, vai in descrizione e trovi il link, cash.michelemarilino.com, facciamo un paio d'ore di consulenza insieme dove cerchiamo di capire se vuoi aprire, se è possibile per te aprire un canale mettendoci la faccia oppure vuoi aprire un cash cow channel. Ti spiego tutta la strategia che mi ha permesso, perché poi è sotto gli occhi di tutti questo canale, un anno e mezzo, cioè quando ho lanciato quel percorso, tipo ad agosto, in 15 mesi avevo raggiunto, da marzo ad agosto, avevo raggiunto i 10.000 euro al mese tra monetizzazione e consulenza che ho iniziato a vendere, affiliazioni e sponsorizzazioni, ma adesso siamo quasi al doppio a settembre, perché YouTube è una macchina da soldi, quindi io ti posso seguire per lanciare un canale YouTube che anche a te ti faccia guadagnare non solo dalle visualizzazioni, dalla monetizzazione, ma anche dalle affiliazioni per esempio, da collaborazioni, partnership, se ci metti la faccia puoi vendere le tue consulenze, ma possiamo anche costruire un cash cow channel che ha quell'approccio come se fosse un personal brand e quindi puoi vendere anche info prodotti, video corsi, poi ci sono un sacco di soldi da fare, io ti posso aiutare, ci sono due ore di consulenza, poi c'è il mio corso YouTube Secret, corso che rivela dei segreti allucinanti sulla SEO, su come scalare velocemente questo praticamente business, come scalare un canale YouTube, come faccio io ad avere un RPM 20 che è tendente al 30, cos'è l'RPM? Quello che ti paga YouTube per ogni 1.000 visualizzazioni, 20 facendo 100.000 visualizzazioni al mese, che non sono tante, ti sei fatto 2.000 euro, ma come è possibile? Perché canali come il mio con più iscritti non hanno questo RPM? trovi tutto nel corso YouTube Secret, prendilo, è regalato. E in più c'hai anche nella versione Premium di Marrakesh 4 video pronti che io e il mio team realizziamo, stiamo facendo i video dei primi clienti, stanno venendo una bomba di clienti soddisfatti, cioè che veramente i ragazzi che lavorano sono bravissimi, video di 10 minuti, quindi tu con Marrakesh Premium hai veramente anche 4 video di 10 minuti con cui partire, quindi fai la consulenza, decidiamo l'argomento, quale canale, quindi io poi so quali video farti, quindi dopo una settimana dopo la consulenza ti arrivano i 4 video, tu nel frattempo appena acquisti ti guardi il corso e sei pronto per lucrare. cash.michelamaradino.com, ci sono gli ultimi due posti, vi aspetto. Quindi ho fatto le presentazioni, ho fatto il mio pitch di vendita e se sei rimasto fino a qui ti voglio bene, adesso ti svelo come puoi hackerare la tua mente, perché noi tendiamo ad autosabotarci, ragazzi. Allora, se noi ci autosabotiamo, perché ci autosabotiamo? Perché esistono due livelli di mente, la mente inconscia e la mente conscia. Le decisioni, tutto quello che prendiamo, lo facciamo perché abbiamo delle credenze, dei valori nella mente inconscia, ha voglia che consciamente, se a me piace mangiare, mi piace sfondarmi, si fa sempre questo esempio, ma per farvi capire, se a me piace mangiare, mi piace il cibo, mi piace sfondarmi, dentro di me nella mia mente inconscia c'è l'equazione cibo uguale goduria, ha voglia io a dirmi consciamente? Allora, consciamente che vuol dire? Che sono io che penso, adesso devo dimagrire, ok? Inconsciamente ci sono i tuoi valori, le tue credenze e come faccio io a capire cosa penso inconsciamente? Devi vedere i tuoi risultati, perché i tuoi risultati dipendono dalla mente inconscia. Sei grasso? Vuol dire che ti piace mangiare, pure non per forza ciccione. Sei sovrappeso? Io credo di essere abbastanza sovrappeso, soprattutto dopo l'estate. Ho messo su qualche chilo e sono con difficoltà, non riesco a scendere, porca miseria, perché dentro di me, nella mente inconscia c'è cibo uguale goduria. Quindi, come faccio a capire cosa c'è nella mia mente inconscia? Vedo i risultati, dovrei essere 75 kg, ne peso quasi 90, quello è il risultato, ok? Inutile che stai lì a dirti, no ma io voglio dimagrire, voglio dimagrire, oppure nel caso voglio guadagnare di più, voglio guadagnare di più, voglio guadagnare di più. Sì, nella tua mente inconscia. Andiamo a vedere quanto guadagni. No, 1200 euro, faccio un lavoro precario. Nella tua mente inconscia c'è qualcosa che non va, perché se nella tua mente inconscia ci fosse un bel valore, una bella credenza sul fatto che magari avere tanti soldi è giusto, non è un problema, ok? Perché che succede? La maggior parte di noi siamo nati in famiglie normali, con queste credenze, no? Bisogna lavorare il giusto, bisogna guadagnare il giusto, chi guadagna tanto, chi è ricco è un malfattore, quindi i soldi sono lo sterco del diavolo. Se tu quando sei piccolo tuo padre stava a contare che non ce la facevate, oppure io mi ricordo, mia madre facevamo il giro, cioè facevamo il giro di tutti i negozi per trovare il paio di scalpe che costava meno, perché? Perché bisognava risparmiare, ma è un risparmio malato. Io ho fatto, credo, spero di aver fatto altri video in cui vi spiego come risparmiare, cioè non dovete risparmiare nello stesso conto in cui guadagnate, se no impazzite, dovete risparmiare il primo del mese in automatico un bel bonifico che vi manda i soldi su un altro conto dove non avete la carta e avete risparmiato. Poi vi godete quei pochi soldi che rimangono senza andare a guardare il prezzo, ovviamente in un range di prezzo che vi potete permettere in base al budget che entra, però state più rilassati. Poi capite che se vogliamo risparmiare di più dobbiamo guadagnare di più, non che dobbiamo andarci a fare il giro, quanto vale il tuo tempo? Una settimana ci voleva per comprare un paio di scarpe, per risparmiare 10 euro. Quanto una settimana girare i negozi? Un paio di ore al giorno. Tutta Taranto dovevamo girare per avere lo sconto. Ma quanto vale il tuo tempo? Ma mamma, non ci avevi da fare. Chiusa parentesi. Ok, io divago, come si dice, dilago, vado a braccio, però seguitemi che è importante. Quindi i risultati sono nella mente. Cioè i risultati ci dicono quello che pensiamo veramente. Allora, tu stai guadagnando e magari c'è una certa cifra e dentro la tua testa magari, che ne so, 10.000 euro al mese. Dentro la tua testa, nel tuo inconscio, vai, 10.000 euro al mese vanno più che bene, sono più che sufficienti. Se ce l'hai come valore, se lo pensi, non è che, cioè, rimani sempre su quella cifra. Molti imprenditori, liberi professionisti, che possono determinare il loro stipendio, perché possono fare delle azioni, non è che hanno uno stipendio fisso. Quindi impegnandosi di più, facendo qualcosa di diverso, possono guadagnare di più. Non lo fanno perché dentro di loro pensano che quella cifra è giusta a guadagnare di più, è troppo, va bene quella cifra. Quindi la prima cosa da fare, ragazzi, per poter guadagnare di più, prima di hackerare la mente, perché se tu hai un lavoro dipendente, pure che ti, sì, puoi anche utilizzare queste pratiche, magari ti viene qualche idea, però nella maggior parte dei casi è consigliato fare un lavoro da libero professionista, da imprenditore, cioè un lavoro su cui tu puoi influire attivamente sul tuo stipendio. E poi anche lì avrai bisogno, perché dentro di noi, nell'inconscio, siamo stati programmati con la vera cacca, ci hanno messo di tutto. Se poi guardate anche la televisione, siete fottuti. Chissà che cosa credete, forse che il governo vi salverà. Quindi lì ci sono problemi ancora più grandi. Quindi il primo consiglio che dico sempre è spegnete la tv. È incredibile, da quando ho spento la tv, ah, vuoi guadagnare di più? Smetti di guardare, ah, vuoi guadagnare di più? Diventa un libero professionista, un imprenditore e spegni la tv. Vai, già solo questo ti porterà a guadagnare di più. Poi vuoi guadagnare ancora di più? La nostra mente, noi ci autosabotiamo, allora io ho trovato il modo per fregare la mia mente. Bisogna, diciamo, bombardare la propria mente di informazioni, di contenuti che riguardano, diciamo, una ricchezza maggiore, ok? Allora, vi faccio questo video, lascio perché mi è successo proprio d'estate, me ne sono accorto dopo. Io sono stato, vabbè, chi mi segue lo sa, ha fatto un bel po' di vacanze ed ad un certo punto la mia compagna doveva andare la sua sorella. Io dovevo comunque lavorare, era tipo i primi di agosto, il 6-7 agosto. Io l'ho accompagnata, l'ho lasciata lì con mia figlia, è stato il weekend, poi io sono tornato per lavorare, quindi sarà tornato l'8, il 9, non mi ricordo. Diciamo che poi sono stato qui da solo, poi sono andato a riprenderli il 18 agosto, quindi diciamo una decina di giorni la mia vita è stata questa. Venivo qui, 7 e mezza, mi svegliavo, venivo qui alle 8 e al Maralab, il mio ufficio che ho rinominato Maralab, che forse rinominerò Marakesh Lab, perché Marakesh è veramente, ha avuto un grande successo il mio programma, sono molto contento. Poi stiamo lavorando bene, stiamo veramente impattando sui canali YouTube di chi, perché alcuni partivano da zero, ma alcuni avevano anche dei canali che stiamo risollevando. Quindi venivo qui, neanche pranzavo, stavo qui dalle 8 fino alle 7 e mezza di sera, non ho visto nessuno per 10 giorni, che cosa facevo quando tornavo a casa? Mi guardavo una serie, mi sono visto Succession, come si chiama? Successione, su Sky, quella serie ispirata a Marduk, quindi c'è la storia di questo magnate dei media, con tre figli, no, quattro figli, erano quattro figli, di cui uno non gli interessava molto, tre erano quelli candidati alla successione, e io per 10 giorni mi sono bombardato di questa roba, dalle 8 che tornavo a casa fino a mezzanotte, ogni giorno, quattro stagioni, li ho visti tutti in 10 giorni, tipo 39 episodi da un'ora, pazzesco, quindi io venivo, lavoravo, tornavo a casa, le uniche persone che vedevo erano i protagonisti di quella serie, quindi erano dentro, mi sono sentito in questo mondo, erano miliardari, facevano acquisizioni, allora spostiamo 10 miliardi a quello, compriamo quel network, tutti questi discorsi nella mia mente, e tu ti ripeti, cioè io ho fatto praticamente, guardavo questa serie, è capitato per caso, ma tu lo puoi fare attivamente, ti puoi guardare video di gente miglioraria, che parla, puoi veramente circondarti anche con contenuti video di ricchezza, oppure puoi andare in, quello che di solito si consiglia, vai in un hotel 5 stelle, entra dentro, respira quell'aria, e prenditi un caffè e vivi quel, però lo devi fare tutti i giorni, quindi anche contenuti video ti aiutano, quindi video sulla ricchezza, ho visto questa serie, e mi sentivo in quel mondo, cioè io mi sentivo quasi il figlio, del magnate, dei media, che a me non mi date niente, quindi tutti i miei, inconsciamente sono entrati questi valori di ricchezza, cioè se tu ti bombardi, e ti ripeti questi concetti, poi che succede? Inconsciamente diciamo che entra diciamo un nuovo paradigma, possiamo dire, il nuovo paradigma è che bisogna essere ricchi, bisogna avere tanti soldi, avere tanti soldi è giusto, è bello, inizi, non te ne accorgi, inizi a fare delle cose che non avresti mai fatto prima quando credevi, no ma i miei soldi mi bastano, come è nato il mio programma Marrakesh? Probabilmente perché a furia di vedere, dentro di me è nata la voglia, ma facciamo qualcosa in più, facciamo un nuovo prodotto, lanciamo qualcosa per guadagnare di più, è pazzesco, questo canale è stato aperto un anno e mezzo, non è successo niente, negli ultimi mesi, perché? Secondo me io in quei dieci giorni mi sono riprogrammato, ora io mi ero già riprogrammato, perché quando sono venuto in contatto con queste informazioni ho detto le devo sfruttare, come ho fatto? tu ti puoi riprogrammare anche con un foglio e una penna, io che cosa facevo? Che cosa ho fatto? E mi scrivevo su un foglio di carta tutti i giorni, guarda, ve li faccio vedere, ve li faccio vedere, perché poi voi dite, vediamo, voi poi pensate che qua su internet che la gente guadagna, diciamo qua, sono così felice e gratis, ho ancora i fogli, a parte che ti puoi anche, ti devi anche circondare, vedete, guadagno 1000 euro al giorno, c'è scritto qua, mi ero bombardato la camera, questi sono tutti i fogli, scritti fronte e retro, tutti i giorni, c'è scritto, sono così felice e grato di guadagnare 1000 euro al giorno, l'ho fatto, guardate questo blocco, questo video è pazzesco ragazzi, iscrivetevi, cioè, perché poi le cose le devi fare, cioè stanno tutti a lamentarsi, a dire, ma ci sei stato lì a buttare il sangue, a sentirti quasi un cretino, a dire, ma sta roba funzionerà, sono così felice e grato, ogni giorno, probabilmente lo devo rifare, perché sono arrivato a un livello, per superare quel livello, devi inserire, magari, un nuovo paradigma, e quindi, sono quindi io, mi bombardavo, nel cervello, sono così felice e grato di guadagnare 1000 euro al giorno, cioè, quando tu lo scrivi, te lo ripeti nel cervello, ttta 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 tta, tutti i giorni, inconsciamente, passi, cioè, è una cosa che, sembriamo scemi, io sembro un pazzo, vedete questo con i fogli, ma se non lo faccio, cioè, questa roba, ad un certo punto, nel mio cervello, si dice che ci vogliono 21 giorni, no, per acquisire una nuova abitudine, già dopo 21 giorni, potreste vedere i primi risultati del nuovo paradigma che si sta insinuando nella vostra mente. E che cosa succede? Non te ne accorgi, poi magari te ne rendi conto, ma inizi a vedere le cose in modo diverso, a comportarti in maniera diversa. Se tu stai lì consciamente a dire voglio, 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 ma poi non fai niente perché dentro di te pensi che quella cifra va più che bene, che guadagni o che i ricchi sono brutte persone, non ce la farai mai. Allora frega la tua mente, lavora inconsciamente, fai entrare una nuova abitudine, bombardati di serie, in isolati e bombardati di contenuti di storie di gente ricca, di contenuti di gente ricca, o fai ripetizione e comincia a scrivere se sono felice e grato di guadagnare mille euro al giorno, di guadagnare mille euro al giorno, mille euro al giorno, questa roba ti entra dentro. Allora siccome tu poi guadagni nella tua testa a un certo punto nel tuo inconscio tu guadagni mille euro al giorno, ma ancora non hai risultati, però nell'inconscio è passata con l'informazione. C'è stato un momento in cui io spendevo un sacco di soldi che non avevo perché io non li guadagnavo, però inizi a cambiare, inizi a dire ti vengono delle idee, faccio quella cosa, sì una persona ti propone qualcosa magari non avresti accettato perché sei full invece nell'ottica di ma io guadagno, io devo sì. E così si acrara propriamente. E dopo un po', dai 21 giorni in poi, ve ne accorgerete, farete dei nuovi pensieri, vi verranno nuove idee e magicamente i soldi arriveranno. Cioè, sembra magia, però funziona così. Io hackero, nel momento in cui sono seduto, mi siedo, sono... Cioè, assurdo, iscrivetevi al canale perché chi ve le fa vedere queste cose? Chi? E poi fatelo. Quindi, vi bombardate il cervello, vi isolate. È ovvio che se voi poi uscite al bar e parlate con quello che si lamenta del governo, dell'introreddito di cittadinanza che hanno tolto, quella cosa vi devasta a livello di mindset, va ammazza. Voi dovete isolarvi, bombardarvi di contenuti di gente ricca o riprogrammarvi, scrivere io guadagno 1000 euro al giorno, io guadagno vi ne ragione, ma lo dovete scrivere tutti i giorni, tutti i giorni e dentro di voi comincerà a fiorire un nuovo paradigma e comincerete a fare, io non so come spiegarvelo, comincerete a fare delle cose pazzesche. Cioè, ad accettare, a cambiare, a fare cose che non avreste fatto e così avete fregato la vostra mente, la vostra mente, la vedete hackerata, perché avete lavorato a livello inconscio. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se qualcuno di voi ha fatto questa roba anche, raccontate la vostra esperienza, vi aspetto nei commenti, se questi video vi interessano e questo video vi è piaciuto, io credo che sia di ispirazione, vi ho raccontato la mia storia, mi sono riprogrammato con una serie tv, si può anche fare così, però devi isolarti, io per 10 giorni ho visto solo quello, dalle 24 ore al giorno, prima lavoravo, poi 4 ore al giorno la sera, ed è nato Marrakesh, una roba che ha fatto già, sono decine di migliaia di euro, in più che prima non c'erano. Iscrivetevi al canale ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se volete partecipare a Marrakesh ci sono ancora due posti liberi, cash.michelemaranino.com, se volete solo una consulenza in generale, contattatemi, c'è la mia mail in descrizione, io vi ringrazio per aver visto il video fin qui e vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video, ciao!